46. Pubblicità In televisione vedo una pubblicità che mi dice di comprare qualcosa. Che cos'è quella serie di fotogrammi? Commento È un ordine che informa la coscienza collettiva attraverso l'idealizzazione del prodotto contenuto nella pubblicità. Quando hai usato quel prodotto e la tua coscienza è quella di molti altri, sceglie di osservarlo da una prospettiva più elevata, la pubblicità di quel prodotto sarà migliorata secondo le nuove necessità della coscienza collettiva. Perché tutto è nel tutto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.